Cinghiali alla Maggiolina, botta e risposta tra dieci sindaci della Valdivare e Asl 5. Teiser Emanette, 35 anni e denunciato dai carabinieri, era in un caseggiato dismesso a Sarzana. La provincia stima un rincaro delle bollette per gli istituti scolastici del 150%, i termosifoni si abbassano di un grado. Suona la campanella, le famiglie rischiano un'altra stangata per il corredo scolastico e i libri. Giro della Lunigiana, il conto alla rovescia per la 46esima edizione è già partito, tutto pronto per il primo settembre. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS giornale. Apriamo con la vicenda che da settimane sta tenendo banco ed è quella relativa alla presenza dei cinghiali all'interno del Parco 25 Aprile alla Spezia. La questione ha creato non poco dibattito e quest'oggi dieci sindaci della Valdivara hanno scritto, si sono rivolti direttamente al direttore generale di ASL 5 Paolo Cavagnaro in questa missiva, spiegano a nessuno, interessano le sorti degli allevatori per i cinghiali della maggiorina, però si applicano diversamente le leggi. Così i primi cittadini però hanno anche aggiunto che sono aperti al confronto. Ce ne parla Sergio Diofini. Dura presa di posizione dei sindaci della Valdivara nei confronti di ASL 5, una protesta super partes nonostante manchi solo un mese alle elezioni con gli schieramenti in piena campagna elettorale. La rivolta dei sindaci nasce nei giorni scorsi contro l'eccessivo rigore nei confronti delle aziende zootecniche di piccole e piccolissime dimensioni diffuse nell'entroterra da parte dell'ASL, prendendo spunto dalla questione dei cinghiali del Parco della Maggiolina. La svolta dell'altro ieri, affermano i sindaci, dimostra che la legge può applicarsi in modi diversi. Prima era obbligatorio abbatterli, ora è invece possibile ricollocarli, evitando di urtare la sensibilità degli animalisti che si sono presi a cuore la sorte di quei cinghiali. Viene dunque da chiedersi, domandano i sindaci, perché in alcuni casi, come quello degli allevatori della Valdivara, la legge possa essere applicata solo in chiave repressiva e sanzionatoria, mentre in altri, come quello dei cinghiali, essa consenta interpretazioni secondo la ragionevolezza e il sentire comune. Forse queste persone sono meno importanti di quei nuovi cinghiali che hanno messo in movimento la macchina amministrativa e politica dalle fondamenta ai vertici? I responsabili della sanità animali di AS5, proseguono i sindaci, che ora sovraintendono al salvataggio dei cinghiali della Maggiolina, sembrano non interessarsi minimamente alla salvezza di centinaia di piccoli allevatori, primeggiando sul fronte delle sanzioni con un'efficienza che non trova uguali. I sindaci chiedono infine un ulteriore confronto con i vertici degli uffici competenti, che potrà tenersi, come già in passato, presso i comuni di Sesta Godano, che con il sindaco Marco Traversone guida la rivolta contro i vertici di AS5. Oltre a lui ci sono quello di Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchettavara e Zignago. E in merito a quanto sollevato dai sindaci interviene anche la direzione generale di AS5 nelle parole di Paolo Cavagnaro. Il primo punto affrontato è merito alla prima risposta, quella al sindaco Traversone. Era stata diffusa su carta intestata dalla media istituzionale e dall'ufficio stampa che l'ha firmata in calce. La direzione ASL ha poi ribadito le misure adottate per risolvere la problematica legata alla presenza di un gruppo di cinghiali all'interno del Parco Urbano della Maggiolina alla Spezia, sono state decise con gli assessorati direzioni regionali competenti per materia dopo approfondite valutazioni con il commissario straordinario alla peste suina africana. ASL 5 ribadisce ancora una volta nella nota che tutti i controlli ufficiali vengono condotti nel rispetto delle norme e con ampio utilizzo dell'istituto della diffida prescrizione così da permettere agli utenti di regolarizzare la loro posizione ed evitare così le sanzioni amministrative. Il tono generalista della replica non consente di affrontare le singole fattispecie riguarda le quali gli interessati sono invitati direttamente o tramite le associazioni di categoria a sottoporle all'attenzione della struttura della sanità animale che così può esprimersi nello specifico e fornire ogni dettaglio in merito. La nota di ASL 5 conclude, in tutti gli altri casi invece qualora gli utenti ravvisino condotte penalmente rilevanti sarebbe opportuno rivolgersi ai competenti uffici giudiziari. La direzione aziendale rimane a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti. Passiamo alla cronaca, aveva con sé un taser e delle manette in metallo. Per questo motivo un 35enne senza fissa dimore già noto agli uffici è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere. L'uomo è stato individuato dai carabinieri in un caseggiato dismesso in via fondamento a Sarzana. Al termine di una perquisizione dei militari sono spuntati a carico del 35enne un taser e delle manette in metallo. L'uomo è stato denunciato, gli oggetti sequestrati e proseguono gli accertamenti su come si sia procurato il taser di fatto ritenuto un'arma. Tre ricercati rintracciati in città e arrestati dai carabinieri ora si trovano nel carcere di Villa Andreino alla Spezia. A finire in manette un 35enne condannato nel 2016 per detenzione di materiale pedopornografico è stato rintracciato nella sua abitazione e accompagnato in carcere in via Fonte Vivo. L'uomo già detenuto ai domiciliari deve terminare di scontare la pena in carcere avendo ripetutamente violato come documentato dai carabinieri gli obblighi connessi al beneficio di cui era stato ammesso. In seguito i militari dopo varie ricerche sul territorio hanno individuato e arrestato nei pressi della stazione ferroviaria centrale un algerino di 48 anni residente a Pisa di fatto senza fissa dimora che deve scontare la pena di due anni per reclusione per una condanna di furto aggravato commesso alla Spezia nel 2015. L'ultimo a finire in carcere nelle prime ore della mattinata è un giovane albanese di 21 anni anche gli residenti in città sul quale pendeva l'esecuzione di una pena di tre anni e mezzo di reclusione per aver commesso nel 2020 una rapina con lesioni personali ai danni di un cittadino straniero titolare di un market etnico del centro. E ora un'altra notizia di cronaca, musica troppo alta in un circolo di Corso Cavour ad accertare la situazione uno dei numerosi controlli condotti dalla polizia locale della Spezia. Il locale è risultato inottemprante al rispetto delle normative continuando a trasmettere musica a tutto volume. A seguito degli accertamenti è emerso che non si trattava della prima volta quindi nei confronti del circo è stata emessa una sanzione ma ad aggravare la posizione è che a breve arriverà anche la revoca dell'autorizzazione per esercitare. Infortunio per una turista americana di 23 anni questa mattina sul sentiero tra Monte Rosso e Bernazza sul posto il soccorso alpino e i vigili del fuoco. La ragazza è stata stabilizzata sul posto, lamentava un forte dolore alla caviglia che le impediva di camminare a recuperarla, è stato anche poi l'elissoccorso Drago che l'ha issata a bordo e trasportata all'ospedale della Spezia. E ora diamo uno sguardo insieme ai dati relativi all'epidemia Covid. In Regione Liguria e la Spezia sono 656 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte degli oltre 4.800 tamponi effettuati. I casi attivi sono 11.138. A livello regionale scendono le ospedalizzazioni. In Liguria le persone ricoverate sono 284, 15 in meno rispetto alla giornata di ieri e 7 persone si trovano in terapia intensiva. In tutta la Regione si sono registrati 3 decessi, uno dei quali è avvenuto al San Bartolomeo di Sarzana. Continuiamo con i dati provinciali, alla Spezia i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 91 e in totale i positivi sono 1.491. Nella nostra provincia i ricoveri seguono lo stesso andamento rispetto al resto della Regione e si registrano 3 ricoveri in meno. In totale le persone in ospedale sono 37, la terapia intensiva resta vuota. Cambiamo argomento e parliamo del rientro a scuola. Per il periodo scolastico 2022-2023 si prevede un aumento dei costi riguardo all'energia pari al 150%. Lo riporta la provincia della Spezia e per ridurre queste spese l'ente ha incontrato i dirigenti scolastici, l'ufficio scolastico regionale per varare un piano che punti al risparmio energetico. Vediamo il nostro servizio. Il rincaro dell'energia rischia di sfiorare il 150% e per questo motivo in provincia si è tenuto un incontro tra ente, ufficio scolastico regionale e dirigenti degli istituti secondari di secondo grado. Stando a quanto emerge da una nota della provincia, l'ente non sarà in grado a ricoprire questi nuovi imprevisti costi e per questo si rende necessario ridurre al minimo le spese, così come già attuato per la sede provinciale di Via Veneto e per le altre infrastrutture. I dirigenti scolastici hanno dato massima disponibilità per coordinare con la provincia un piano che possa ridurre di almeno un milione di euro le bollette, mettendo in pratica una serie di accorgimenti utili a limitare lo spreco energetico. Saranno limitate le accensioni delle luci nei locali scolastici solo in condizioni di scarso illuminazione esterna e solo per i tempi necessari alla didattica. Ogni area o infrastruttura avrà del personale incaricato della verifica dello spegnimento delle luci e delle apparecchiature a fine giornata. Saranno ottimizzati gli orari scolastici al fine di avere una massima concentrazione di attività nell'arco dei giorni e ridurre così al minimo le ore di accensione degli impianti di riscaldamento. Sarà poi diminuito di un grado il livello delle temperature garantite negli edifici dai sistemi di riscaldamento centralizzati. Verranno razionalizzati gli utilizzi degli spazi comuni per evitare sprechi, mentre nei prossimi giorni ogni istituto concorderà con l'ufficio tecnico della provincia ulteriori interventi di riduzione dei consumi specifici per le varie esigenze. La provincia della Spezia ha anche annunciato di aver dato il via al nuovo programma di messa a norma ed efficientamento tecnico degli edifici che ospitano le scuole, questo aderendo a bandi di finanziamento statali per 7 milioni e 464 mila euro. Si tratta di una serie di programmi a proseguimento degli investimenti sviluppati negli ultimi tre anni e che avranno inizio nel corso del 2022 e del 2023. Parliamo ancora di scuola. La campanella suonerà il 14 settembre per gli studenti spezzini e quelli liguri e per le famiglie è tempo di acquisti di materiale scolastico. Secondo le stime però di Codacons non mancheranno forti rincari dovuti all'inflazione. Ce ne parla Andrea De Bernardi nel suo servizio e le immagini sono di Sergio Riofili. Manca poco all'inizio della scuola in programma per mercoledì 14 settembre e per le famiglie è arrivato il momento dell'acquisto di diari, zaini e materiale scolastico con una sorpresa non gradita, un forte rialzo dei prezzi dovuto all'ondata di inflazione che sta colpendo il paese. Secondo le stime di Codacons infatti i prezzi di astucci, zaini e materiale scolastico sono in rialzo del 7% rispetto al 3% dello scorso anno. Per fare alcuni esempi, il prezzo di uno zaino di marca raggiunge 200 euro mentre per acquistare un astuccio griffato, completo di penne, matite e pennarelli si dovranno sborsare anche 60 euro. Alla base dei forti rincari ci sono diversi fattori. Innanzitutto il caro energia, unito a un aumento del prezzo dei trasporti dovuto al rincaro dei carburanti. In secondo luogo l'aumento dei prezzi delle materie prime che hanno subito un'impennata nell'ultimo anno. In base alle stime effettuate una famiglia spenderà in media quasi 600 euro per acquistare l'intero corredo cifra che se sommata al costo dei libri di testo raggiunge quota 1.300, 100 in più rispetto allo scorso anno. Non mancano però i consigli per risparmiare fino al 40%. Non inseguire le mode ed evitare prodotti griffati. Valutare le offerte dei supermercati, rimandare le spese non urgenti, attendere le indicazioni dei professori e approfittare delle offerte promozionali e dei kit a prezzo fisso. È scomparso all'età di 96 anni Danilo Zappa, protagonista dell'antifascismo sarzanese durante l'ultima guerra. Rimasto orfano di padre, aveva trasformato la tipografia di famiglia in un'importante industria grafica. Fu anche tra i fondatori del tennis sarzan e socio della pubblica assistenza misericordia. I funerali si terranno in forma strettamente privata. Cambiamo argomento, saranno ripristinate entro la fine della giornata le prime 300 utenze ad Amelia rimaste senza fornitura di gas a seguito della rettura dell'acquedotto che ha provocato l'allagamento delle tubazioni del metano. È quanto ha comunicato il gestore Italgas durante la riunione convocata anche oggi dalla protezione civile della regione Liguria con il comune di Amelia. Il ripristino di queste prime utenze era previsto ieri sera ma è slittato di alcune ore per un problema tecnico. Durante le prove di ripristino era stata rilevata ancora la presenza di acqua all'interno della condotta. Secondo quanto riferito dai tecnici di Italgas, una volta riallacciate le prime 300 utenze nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi per garantire entro domenica il progressivo riallaccio delle altre 600 ancora senza fornitura. Il Dipartimento della protezione civile della regione Liguria ha convocato una nuova riunione per domani, venerdì 26 agosto alle 12. E ora una notizia di cultura. Dopo il successo della rassegna teatrale di Santo Stefano Magra e alla partecipazione alla rassegna del Teatro Dialettale di Sanremo la compagnia teatrale Pulsenella e Core applica lo spettacolo al centro eventi di Ceparana nel comune di Bolano. L'appuntamento è alle 21.15 di sabato 27 agosto. L'ingresso è gratuito. Apriamo la pagina dello sport. Il conto alla rovescia per il 46esimo Giro della Lunigiana è già cominciato. La partenza è prevista per il primo settembre. Scopriamo tutti i dettagli nel servizio di Sergio Diofili. Tutto pronto per l'edizione 2022 del Giro della Lunigiana gara internazionale a tappe per la categoria Juniors in programma da giovedì 1 a domenica 4 settembre. 29 squadre tra cui 16 saranno le rappresentative regionali più la squadra allestita dalla società organizzatrice Casano la rappresentativa Lunigiana e ben 12 quelle nazionali vale dire Belgio, Colombia, Francia, Germania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina. Il Giro della Lunigiana per questa sua 46esima edizione si presenta con parecchie novità. La prima è la partenza che porterà la gara per la prima volta a Portofino. Seguirà la tappa da Porto-Venera-Serzana mentre altra novità sarà la semitappa con arrivo a San Carlo Terme. Infine il Giro della Lunigiana Rosa, una gara per le donne Junior che arricchirà la penultima giornata sabato 3 settembre quando al mattino ci sarà la gara con partenza da Arcola nello Spezzino per giungere al traguardo di Fivizzano dove qualche ora più tardi concluderanno la penultima tappa agli Juniors. Per quanto riguarda le nazionali straniere è confermata la partecipazione della Francia vincitrice dell'ultima edizione della gara con Lenni e Martinez. Appuntamento quindi a mercoledì 31 agosto alle 18.30 sul lungomare di Lerici per la presentazione delle 29 squadre che giovedì 1 settembre saranno a Portofino alla partenza della 46esima edizione dell'Unigiana. Ok, su pista, in perfetta parità la doppia amichevole con l'amatori lodi del gamma Innovation Sarzana che intanto accoglie l'arrivo di un giovanissimo rinforzo attorniato da grandi aspettative. Il servizio è di Andrea Catalani. 3 a 3 come nel turno d'andata chiamiamolo così in Lombardia anche in quello di ritorno della doppia amichevole tra il gamma Innovation Sarzana e il forte amatori Lodi. Questa volta si è giocato al Palaterzi. Tra i lodigiani peraltro i rossoneri hanno rivisto quel Pablo Nachera che fino a pochissimi mesi fa militava in rossonero ma al centro delle attenzioni stavolta c'era il giovanissimo Mirko Tognacca un ragazzo proveniente da Seregno provincia di Monza e Brianza che a quanto sembra è una vera e propria promessa dell'hockey su pista italiano anche se per adesso si deve a Sarzana accomodare in panchina. Tempo al tempo. Sono adesso qui a Sarzana in questa bellissima piazza per fare comunque il torriere esperienza e vengo dalla passata stagione a Matera in un campionato di Serie A2 dove l'ho fatto la protagonista e ho iniziato a Seregno con i primi passi per poi spostarmi nelle giovani del Monza per due anni e poi seguire a Lodi per altri quattro anni. Poi sono stato richiamato a Monza per far parte della Rosa di A1 e cominciare questo percorso di Serie A1 e adesso sono qui a Sarzana in una bellissima società fatta da bellissime persone che sono attaccate moltissimo a questo bellissimo sport e anche col mister ho un buon rapporto con i compagni li sto conoscendo pian piano mi stanno aiutando e niente speriamo di fare bene perché comunque questo posto merita questa squadra merita e vediamo come va la stagione. Vi ricordo che questa sera alle 21.30 non mancherà l'appuntamento con voglia di spezia in studio Enrico Lazzari e Massimo Casseri e in chiusura veniamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani il graduale indebolimento del campo anticiclonico presente da giorni sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà un generale aumento della variabilità associata anche a qualche episodio instabile domani venerdì 26 agosto al mattino transito di velature in un contesto generalmente soleggiato a parte qualche nube più consistente sulle Alpi Liguri dalle ore centrali della giornata nel corso del pomeriggio formazione di rovesci temporaleschi nelle zone interne specie su Appennino centro-orientale Alpi Liguri non si escludono locali sconfinamenti prevalentemente nuvolosi lungo la fascia costiera sottostante cieli poco o al più parzialmente nuvolosi altrove i venti tra la notte e il mattino saranno deboli da nord a seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali il mare sarà poco mosso le temperature saranno pressoché stazionarie sulla costa le minime oscilleranno tra 19 e 24 gradi e le massime tra 27 e 31 gradi nell'interno le minime oscilleranno tra 9 e 18 gradi le massime tra 26 e 32 gradi e per questa edizione del TLS giornale questa era davvero l'ultima notizia grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud arrivederci Grazie a tutti per dubbi la giusta grazie a tutti i